ciao a tutte buona domenica innanzitutto finalmente mi sono arrivati una parte di quello stampo gli stickers che non vedevo l'ora di ricevere è incredibile il gatto riesce sempre dare spettacolo è finito ok dicevamo niente mi è arrivato uno stampino preso da etsy preso dal giappone che era questo era una vita che volevo comprarlo e tutte le volte trovavo una scusa per non spendere i soldi ma ho preso lo stesso sono tanti bottoni di varie misure scusate il rumore ce l'ho fatta questo qua diventeranno i classici cabocciol guardate il gatto che a breve arriva a fare danni eccolo adesso si soffoca aspettate che salvo il gatto ok niente dicevo questo è lo stampino probabilmente credo di fare dei bottoni veri e propri perché col trapponino dovrei riuscire a forare i buchanini e quindi così gatto mi piace lo stampino ok scusatemi fa parte dell'area eh pazienza opale via il gatto e questi che c'è dovete vederli sono veramente una roba fantastica oh che cosa carina ma penso che voglietti scusa questi qua eh carini belli questo è si ammazzagato di nuovo ah bazza 3 per cento di sconto per il mio prossimo ordine e questo lo sfrutterò sicuramente niente il gatto è deciso che fa parte di tè grande del video oggi e questi qua sono gli stampini eh sì gli stampini sono gli adesivi che ho preso un mesetto fa ormai oh mio dio carini guardateli c'è solo una roba ah questa me l'ho messo dentro ho preso quelli con mame goma che belli tutti glitterati volevo farci il cameo ma non mi arriva lo stampo col cameo cioè due scatole ancora 15 giorni quindi volevo eventualmente farvi un video unico quindi non so se guardate che belli tutti i piccinini e sono della misura perfetta e poi questi di rilakkuma che non avevo mai visti in giro personalmente che hanno tutti i cibi mettiamo fuoco vedi tutta la bottiglietta le caramelline sembra ah sì sono i cosi le caramelle i pacchettini caramelle tutte le letterine la coca bellissimi e questo è uno col cibo poi col cibo c'era anche questo che era più a dolciumi quindi c'è la cioccolata tutti belli le lattine no sono troppo a carica non vedo valore di sti perché e poi c'è questo che è più classico questo ci farò qualche tondo come l'ultimo video che vi ho fatto vedere carini e quindi niente questi sono miei stickers vi saluto e niente ci vediamo alla prossima ciao